no è quella mix olio pioccaraggia quello che ho fatto preparare che io lo uso alla base questo quasi solo in questa occasione per inumidire è altissimo darmi lo firmerebbero questo è un quadro io per esempio ti giuro non so non riesco a capire l'arte astratta ma è un mio limite mi piace che non sono lungo ma non è capitato prima di me e poi spiegano ancora non sono arrivato nemmeno ok eh bello no? dobbiamo fare un trattato di psicologia che cosa ci vede lei dentro? io vedo il vaso l'ho già fatto io lo vedo sul serio lo vedo anch'io hai già ti sei dato le proporzioni già? eh sì e vabbè che c'è una grisaglia questo vuoi che mi scuola? sono un animaletto da cantiere un animaletto da cantiere via della sedia oggi c'è il pane che ti apprezzi che non ti sto riprendendo oggi? veramente che strano lo stai bene che è successo? perché la riprendo io così dopo le roba questa l'altra volta a Montevarchi a un certo punto in braccio me la trovavo quasi se l'hai trovato davanti alla faccia il mio telefonino ti chiedevo che a un certo io ho detto ma ti scalzi che non vedo quello che ho avuto ma te ne vai un attimo? sì 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 lei la testa Monica ma mi fa dipingere? grazie spazzatissimo no 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 c'è una differenza che quando il pescone è in una Roma sicuramente quando il romano è in pescone e dopo si scappa ecco che ci si può prendere di spazio alla soia spazio alla soia spazio alla soia no no che me lo dice due alla soia grazie Don Elena ci vediamo un bacione forte ciao grazie a tutti grazie a tutti noi la tutti attenti a cercare di dargli una forma precisa tu l'ha aggiustito col tempo con il colore no? sto pensando che forse vorrei fare un po' più piccolo così mi c'entra meglio questo qui questo lo voglio fare un po' più qua l'arange se no lo voglio far finire qui se no mi ruba tutto lo spazio allora il vaso lo devo spostare un po' la metto a cercare di farci per il marico non se ne fosse per niente lo giro un pochino ti da noi a te poi ma io non ti preoccupare così 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 e se quasi un po io speriamo speriamo non cancellare tutti i video che c'erano faccio andare un po davanti tipo così un po davanti così ok se vado avanti come fa l'arancia stare più basso adesso stai bozzando l'arancio e il limone si ho messo una base un po rossiccia per milioni poi mi fa una volta mi tolgo sì perché costa allora guardate ma io gli do di una Grazie. Grazie. Grazie.